Tanto che gli storici hanno discusso ma a quell'epoca era possibile essere atei, dico teoricamente eh, poi sì tecnicamente era possibile perché lo dice anche la Bibbia, lo stolto dice in cuor suo Dio non c'è e loro lo sapevano, certo ci sono perfino persone che non credono in Dio, pensate quanto si può essere idioti, casi concreti? Pochissimi, fra Salimbene da Parma racconta Fino a un po' di anni fa questa sarebbe stata una lezione di storia e basta, sarebbe stata la lezione di un medievista che di guerra santa specialmente in ambito cristiano ne ha vista tanta nel suo periodo, il Medioevo e invece oggi non è soltanto una lezione di storia e oggi il califo ci riprende alla lettera e ci dice voi siete i nuovi crociati e noi vi taglieremo la gola Allora, è chiaro che un tema di questa complessità non lo chiuderemo questa sera Bentornati cari amici dell'ex IGDR Channel Abbiamo lasciato il Magista la scorsa volta nel fallimento della conquista della città di Torino Il Magista ha subito un profondo cambiamento Ha cambiato gli abiti dopo aver letto le cronache di Salimbene de Ada da Parma La moglie, come potete vedere, è preoccupatissima È chiusa nel proprio studio A leggere libri su libri E ha capito che l'ambizione non è la via da seguire, ma quella dell'umiltà Tra l'altro, il nostro Magista vuole imparare una nuova lingua Vuole apprendere dall'impero arabo La lingua araba dal califo Al-Mutaz Eccolo qui Allora Una delle cose principali adesso da fare per il Magista è quella di far prosperare il proprio Ducato Tanto vediamo che alcuni membri della famiglia si possono sposare La nostra figlia, Yut Pranda Con il Duca di Toscana Allora, vediamo Guardiamo qualche tratto invece Qualcuno di umile Questa è casto, ambiziosa, no, non va bene Ci serve Sadico Casto Questo uomo qua No, è umile ma lussurioso È impaziente Sembra che nei regni non esista un uomo pio Sono tutti accecati Dalla lussuria Dalla disonestà Ecco, quest'uomo qua 46 anni A una certa età Ed è di una strana fede Una fede musulmana Proviamo Matrimonio matrilineare Uno strano uomo Anche nostra figlia Isabel Si può sposare È successo Il tuo amministratore Mi ha insultato gravemente Ho soldi no Improviamo il nostro perdono Adesso siamo persone molto umili Mentre per l'altra nostra figlia Un uomo di cultura magari Qualcuno che possa riportare nel ducato La luce della sapienza Ma non troviamo nessuno Ah, questo bambino Un piccolo prodigio Ecco qua Andiamo avanti Tanto il controllo nella contea di Novara Sta aumentando E il progresso nella nostra lingua araba continua Il nostro magistrato aveva incontrato Degli stani e figure Chi è? È morto Alberto Angela Nostro figlio Non se lo meritava proprio Il nostro magistrato ha fatto un giuramento Mai più avventatezza Allora Tanto i nostri ducati stanno Pian piano aumentando Come la situazione E' sempre Tutto ristagnante Un banchetto No, non ci interessa Adesso siamo persone umili Non ci interessa proprio il banchetto C'è qualcosa che possiamo fare Qualche decisione Cercare un medico Un caravagnino Invitare i pretendenti Scriviamo qualche pensiero Sul nostro cambiamento Intingo la mia penna un'altra volta Prendo una penna E apro il mio diario Sì, dobbiamo scrivere le coneche Di ciò che sta succedendo Del nostro cambiamento Tanto è nato un altro nipote Lo chiamiamo Arnaldino Sempre un altro banchetto Intanto direi Di vedere cosa si può Costruire Per far prosperare Un po' di più Forse dei pascoli Ad asti Abbiamo appreso La lingua araba Dicevo che All'università Abbiamo incontrato Degli egiziani Degli strani figure Che ci hanno anche Un po' influenzato Non si sa Perché il nostro magista Sia così attratto Da questa cultura Grande capo Zobor L'avido Noi non intendiamo Aiutarla però Tratto moderato O giusto Tratto giusto Abbiamo una posizione Ruota Nel consiglio Il maresciallo Non abbiamo Dei grandi guerrieri Chiamiamo Questo che è È l'arabo Questo Sì Allora Chiamiamo Al Rashid Non abbiamo Dei grandi guerrieri Ma adesso Non ci servono Ma la Rashid È diventato Il nostro Nuovo Maresciallo Un naso Per il profitto Troviamo qualcosa In una bancarella Ma non ci interessa Sono delle pietre No Non ci interessano Vediamo Vediamo Un altro Tratto Che possiamo dare A nostra nipote Zelante Calmo Coraggioso No Calmo Calmo Anche qui Vediamo se possiamo No Qui tutte cose Per i guerrieri Anche qui Altri pascoli Per i bovini Dobbiamo Educazione Deustacchio Ha piantato I semi Di un'amicizia Tanto abbiamo Perso anche Un altro Amministratore Ma il sindaco Alderich Sembra Fare proprio Al nostro Caso Battuta di caccia No no Non ci interessano Non ci interessano Più queste cose La nostra figlia Non sta bene Allora Diciamo Al medico No è che medico Ma è In carta Pecorito Poi con l'elmo È una polmonite È questa Questa parte qua Dobbiamo pensare A far prosperare Il nostro Ducato È fondamentale L'esercito neutrale Il duca Lambert La nostra figlia È guarita Ma è morto Il medico Ha guarato Nostra figlia Ma è morto Il medico E la regina La regina ci odia Ma è un odio reciproco Non siamo più Il capo delle spie Forse ha capito Che può fare Senza di noi Però vedo Che il suo regno È abbastanza Raziato Dagli eserciti È morto Ardicino No Guardate Com'è invecchiato Anche lui È morto A 66 anni Il baffo Mi dispiace Tantissimo Per Ardicino Abbiamo fatto Tantissime avventure Insieme a lui Anche noi Stiamo invecchiando Tantissimo Abbiamo 51 anni Stiamo I pascoli È il nostro Magister È sempre Chiuso Nel suo studio Sì sì Tratto umile Nostro Magister Sta rispensando Umiltà In tutta la sua corte Il nostro Capo della fede Ci garantirà Una rivendicazione Sul regno Di Ermengarde Però ho davvero Tanta paura Di attaccarla Di nuovo Questa donna Tanto la tregua È finita Il nostro Il nostro nipote Eustacchio Diventato Maggiore N Chissà se le nuove Generazioni Tanto mi sa che il matrimonio Tanto mi sa che il matrimonio qui salta Sono cambiate le politiche Progressi della cultura magrebina Proffondimenti medici So leggere il greco da solo So leggere il greco da solo Esattamente Non abbiamo bisogno di aiuto Approfondimenti medici per vent'anni Il nostro Il nostro magista sta continuando a studiare Tantissimo Proprio Intanto abbiamo guadagnato Un altro vantaggio Lo stile di vita Sulla ricchezza Limite del dominio Più due Ma in questo momento Non ci serve Perché Non vogliamo Attaccare nessuno Vediamo se possiamo imparare Qualca altra lingua Ecco E' la lingua greca L'estomaggista Sta imparando sempre più lingue Dove si vedono le lingue che parla? Se provare a chiedere perdono Ingozziamo delle alleanze Intanto No Lei non ci vuole perdonare Assolutamente Non ci vuole perdonare Nonno Il nonno barbero Abbiamo formato Tante alleanze Però sono piccolissime Alleanze Sono alleanze Insignificanti Ci chiami in guerra Accettiamo Accettiamo Ma Non ci uniamo Non ci interessano Queste cose La chiamiamo La chiamiamo Maffalda Maffalda E' che le ha voluto comprare E' che le ha voluto comprare degli abiti Stupendi Ti serve Qualcun'altro La nuova moglie La nuova moglie La moglie geniale Ecco questa Agnese Di umili origini Italiana Socevole Socevole Compassionevole Fiduciosa Questa va benissimo Non è bellissima Ma Non lo siamo neanche noi Del resto Eccoci Ci sono i ricordi Questo uomo Chi è? No no Non ci interessa Ci interessa Assolutamente Cos'è questa cosa? Contessa Berta Di Pavia Una reggente Gran torneo No no Non ci interessano Grandi tornei I figli Mancano i tutori Allora Intanto diamo Qualche tutore I nostri nipoti No Questa qua È fornicatrice Licenziosa No no Ad Alessandro Secondo Il nostro erede Tanto il nostro alleato Ha perso miseramente La guerra Lo sapevamo benissimo Ci avevamo visto giusto Abbiamo fatto bene Non ci interessava Quella guerra Ah guardate 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 la Francia Come si è spaccata Francia occidentale La Quitagna E la Lotaringia Poi si è formata L'Olanda L'Olanda Barbara Ma cristiana Sono cose che andrebbero Raccontate Scriviamolo Scriviamolo Nel nostro diario Assolutamente Dobbiamo scrivere Di questi ultimi avvenimenti Prima della nostra Dipartita No no Dobbiamo continuare Lo studio Della lingua greca Dal Basileus Compassionevole Pigro Vorace Sì Compassionevole Provare Possiamo costruire qualcosa Forse anche qui Delle scuderie Magari Cuneo Foglie emergente Gli uccelli fuori dalla mia finestra hanno iniziato a cantare un'altra melodia Altre persone sembrano parlare intenzionalmente per enigmi E nessuno riconosce che il coriandolo è una spezia veramente orribile Il nostro magistra sta impazzendo Lui piace il birdwatching Sta impazzendo La vecchiaia lo sta portando alla follia Sta impazzendo E' impazzito Il nostro magistra è impazzito E' lunatico Allora Fermi tutti Dato che il magistra Sembra impazzito Io gli farei qualche sconvolgimento Proviamo a cambiare fede Ci può Altre fedi Allora Potremmo farlo convertire La fede islamica Al tengrismo Che è quella di Gengis Khan Per intenderci Quella nordica Io Farei cambiare La fede Del nostro Alessandro Barbero Dato che è impazzito Ci convertiamo alla fede Ad un'altra fede Gloia È impazzito È impazzito È impazzito Il nostro Alessandro ha subito un brutto colpo E può avere tantissime mogli Assolutamente Delle giovani mogli Bellissime Devono essere delle bellissime mogli Chi è questa? Il sangue del profeta scorre nelle sue vene Ma è balbuziente Però io questa la prenderei Poi c'è qualche moglie Piuttosto Giovane e bella Allora Questa sa 42 anni Si sta facendo l'ARM il Magister Ci stiamo facendo un ARM È impazzito È impazzito Completamente Aspettiamo per la Per la quarta moglie Poi aveva letto Le croniche di Salimbene Ma È diventato lunatico Allucinazioni Visioni Fa fatica a distinguere Tra ciò che è reale E ciò che non lo è L'ho un tratto Un altro tratto Totalmente contrario Ingiusto L'orso con me Apro la porta Al mio castello E mi ritrovo Faccia a faccia Con un orso gigante Oh Zuccherino Hai abbandonato I tuoi amici Quando entro la stanza Si alza una cocofonia Di suoni Mentre ogni animale Su cui ho potuto Mettere le mani Mi saluta Tesori miei Vi troverò ancora Più amici C'era delle visioni Penso di vedere Degli animali Che danzano E' diventato Anche un gattaro Come lo chiamiamo Lo chiamiamo Saladino Chiamo un gatto domestico Animali esotici Guardate la faccia Di nostra moglie Non ci capisce Neanche lei Più niente Magister Totalmente impazzito Povero Magister Povero Magister Come sta finendo Come sta andando a finire Allora Io mi fermerei qua Perché è già successo Tanto in questo momento Il Magister Ha perso totalmente Il senno Possiamo accarezzare Il gatto Ma Eh si Allora Io continuerei La prossima volta E vediamo come Come prosegue Questa avventura Con il nostro Alessandro Barbero Completamente impazzito Non è neanche più Geniale La sua mente Neri Come andrà a finire Va bene Intanto Vi saluto E vi ringrazio Per avermi seguito Alla prossima Per avermi seguito Per avermi seguito